Allora, nuovo ospite qui a LotCorn, sono molto contento di averlo qui, posso dirlo che sono contento di averti qui? Io sono felice, sono io che sono felice di essere qui, mi stanisco tantissimo, non lo direi tu. Marco Rossetti, come stai? Bene, grazie, grazie mille, grazie tante. Allora, siamo qui a LotCorn, fanno una chiacchiera, vedi qui l'obiettivo di questo LotCorn è rilassarsi e dialogare di cose che vengono più o meno semplici. Quindi nel tuo caso io volevo partire dal tuo percorso, insomma oggi che effetto ti fa guardarti indietro e dire, ah, cosa dici? Eh, guarda che stronti, che ero, vedi questo? Eh, sono, sì, devo dire, sono contento, mi reputo estremamente fortunato per il mio percorso, appunto, per cui mi guardo spesso indietro. Guardo spesso quello che ero e quello... Non sei uno di quelli che genera impianti, se avessi, se... No, 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 ho fatto pace, ho combattuto tantissimo con me stesso, ho combatto tuttora con me stesso, ma ho fatto pace con tutto quello che è il rimorso di un qualcosa che poteva essere. Ho fatto pace soprattutto con me stesso, in quanto proprio ho accettato quello che sono, soprattutto dopo un periodo storico come questo qua, da cui veniamo, che è difficilissimo, con cui io proprio nell'ultimo anno e mezzo è stato veramente il più difficile, ma allo stesso tempo il più... Paradossalmente, sì, stimolante e bello anche, per quello che sono proprio oggi, venerdì 16, qui con te. Perché è comunque un qualcosa che mi è servito, tantissimo. E quindi se riguardo quello che sono stato, vedo un ragazzo molto irrequieto, estremamente, diciamo così, incapace di incasellarsi da qualche parte, ma affortunato perché ho avuto la possibilità, appunto, di sbagliare un sacco di volte per poi essere un po' più centrato e soprattutto chiaro, chiaro con me stesso in questo momento. Ma c'è un ruolo che ti ha fatto cambiare tanto, o che ti ha dato più, o che ti ha fatto capire anche che eri sulla strada giusta? Sulla strada giusta, quello no, però penso che non ci siamo mai sulla strada giusta. Se uno pensa di stare sulla strada giusta, poi diventiamo piatti e diventiamo pure una tortura di scatole. Per cui, sai, la fortuna di questo lavoro è proprio questo. Io ho scelto di fare questo lavoro proprio per potermi sbizzarrire. E poi è una fortuna poterlo fare perché nel momento in cui lo fai, qualsiasi ruolo uno affronti, è una fase di crescita infinita. Sono qualunquismi, volendo, questi qua. Però è un qualcosa, appunto, io sono un ignorantone che non ha studiato, non ha fatto l'università, che a scuola andava malissimo, e mi ritrovo, diciamo così, a imparare la vita, diciamo così, facendo questo lavoro. Insomma, quanto di... Ma è stato difficile fare De Rossi, un personaggio come De Rossi, e a Roma, poi? E da raziale, se può dire. È stato, no, vabbè, è stato quello, sono scemenze, però insomma la fede calcistica romana è qualcosa di estremamente sentita. Quasi religiosa. Ma cazzarola, sì. C'è il Vaticano, la Roma. Sì, c'è il Vaticano e poi ci sono Lazio e Roma, certo, a fianco. È stato, no, è stato bello, perché appunto pure là andare a affrontare un personaggio così grande, così, oltre che un professionista e un calciatore, ovviamente un campione, proprio è un personaggio molto romano, molto verace, che sento molto vicino a me, per cui è stata... Sì, esatto, moltissima. Sari? Vabbè, stiamo agli inizi, siamo agli inizi. Se parlo con i napoletani mi dico, wow, che fortuna, vengo a vedere Lazio con te solo per vedere Sari. Dico, ma che cazzo dice, ancora stiamo proprio... Siamo esatto, cioè, forse sul finale, però insomma, diamogli fiducia, è un grande allenatore, vediamo. Poi, purtroppo poi il calcio non ha tempo, forse no, al cinema ce n'è un po' di più, anche tanto rispetto alle ultime cose. Senti, che è l'attore, il tuo attore mito, quello da foto sul comodino se ce l'hai, oppure quello che lo vedi, dici, ecco, se facessi anche un quarto delle cose che ha fatto lui sarei... Allora, io sono cresciuto con l'immagine di Daniel Day-Lewis come proprio... Varo. Beh, allora, sai quando uno ti dice, qual è il tuo film preferito? Allora io credo che non esista un film preferito, esistono secondo me dei film che segnano dei precisi momenti della nostra vita, no? Come le canzoni. Come le canzoni, sì, ma anche come le amicizie, come i rapporti. E allora io mi ricordo ancora il giorno in cui la prima volta ho messo piede in un cinema, insomma, una delle prime volte, e fu con l'ultimo dei Moicani. Per cui, capito, allora dici, e vedi questo, Daniel Day-Lewis fighissimo, capelli lunghi, che corre, capelli lunghissimi, bellissimi, che lotta contro il nemico, il bene, che vince sul male, lui fighissimo, questa... Pazzesca, per cui sono uscito dal lago e ho detto, wow, cacchio, bellissimo. Voglio fare quello. No, non ho detto, lì ancora non ho detto, voglio fare quello, lì ho detto, voglio andare a correre con i cavalli e con i leoni e queste cose qua, con gli indigeni. Però, appunto, secondo me, beh, lui è stato un grandissimo, voglio dire, è stato unico nel... C'è una posizione di rifiarsi. Sì, esatto, perché poi... Poi a un certo punto può abbastare, o no? È quello che dicevamo prima, secondo me, se uno a un certo punto si accontenta, poi alla fine ti annoi pure. Quindi lui diceva, io ho fatto un sacco di roba, vado a fare, che andava a fare il Maniscalco, no, non Maniscalco, non solo a fare il Fabbro, Eh, il ciabattino a Firenze, dove era? Insomma, beh, comunque, ha vinto tanto, no, è stato unico nel suo genere, insomma, per quanto riguarda... E anche se tu guardi non c'è un film... È vero, è sbagliato, è vero. Questo è l'obiettivo anche d'attori? Eh, quella è una fortuna, secondo me, d'attori. Sì, sicuramente... Può succedere o... Può succedere, dipende da quanto uno si fa, si lascia travolgere dal successo, secondo me bisogna essere, avere un'equipa anche dietro, che ti permetta di scegliere le cose giuste, non bisogna farsi prendere dall'eccitazione, che è giusta e sacrosanta, anche di un momento fortunato. Però l'altro giorno parlavamo, per esempio, un altro incontro, un'altra cosa di Brad Pitt, che ha saputo sempre scegliere il film, perché se tu guardi... Anche lui... E ha fatti poche di cose che dici... Ma forse io non me ne viene in mente nessuno... Ma forse di Mexican, quello con Giulia Roberts... Un po' più una commercialata, un po' più così... Ma, insomma, tra Babel e Inerritri, o di Babel... Mamma mia, mamma mia, che film, mamma mia, eh vabbè, filmone, beh, ma lui è sempre stato considerato... Era troppo tu... Era troppo bello, però è mostruoso, sì. Qual è il tuo film invece da Isola Deserta, quello che ti porteresti, ti guarderesti all'infinito? So che ce l'hai questa... Ce l'ho, ce l'ho perché ti conosco, conosco, conosco quest'angolo felice, per cui... Allora, Hollywood Party io mi porterei... Perché, perché appunto, proprio perché sto su Isola Deserta, almeno quando mangio, metto tutta la scena lì e dici che pensi di stare lì con loro... Sì, beh, io trovo che lui sia stato geniale, come ce ne sono stati tanti, però sai, mio pare ci ha cresciuto con Hollywood Party, con i Blues Brothers, adesso non c'entra nulla, però... Ma anche con oltre il giardino, per esempio? No, con il meno, sì, anche perché io, sai, sono terzo di quattro fratelli e ognuno aveva il suo genere, in qualche modo, però poi c'erano, c'erano, diciamo così, i capolavori, secondo il nostro padre, per cui... E la videocassetta, sai, quelle cose che soffiavi ancora col nastro, le cose, che bello... E quindi, sì, tra questi c'ho Hollywood Party e Hollywood Party, che è stato forse, sì, il mio, così, ingresso in quella follia... Infatti, Marco, tu però sei anche un cantastorie, no? Ti piace anche suonare, raccontaci questa seconda vita, o terza, o quarta... Allora, beh, esatto... Perché ti ho sempre detto, no? Sì, perché... Qual è quella giusta? Non lo so, ecco, la cosa è questa, lo sai, ecco, io sono un cantastorie nel senso, porto in scena delle mie cose, delle mie canzoni e dei miei testi, e, diciamo, sono nate per sbaglio, cioè, sono dei testi, delle cose che io, tramite le mie esperienze, ho trascritto, e, probabilmente, proprio per questo ti dico, sai, che quest'anno e mezzo è successo un sacco di roba, l'ho sempre fuggita, le mie esperienze, ho sempre stato abbastanza spaventato, e, invece, da un po' di tempo a questa parte, di tutte quelle esperienze ne ho fatto tesoro, e quindi sono riuscito, diciamo così, a crescere e poi avere il coraggio di portarle in scena. Come diceva Manfredi, ti accompagni da te? Mi accompagno da me, sì, con la chitarra, ma, insomma, appunto, io, voglio dire che sono un canta-austorie, nel senso che non sono né un cantante né un poeta, cioè, faccio... Ma si può vedere da qualche parte qualcosa? Adesso lo porto in scena da prima del Covid, questo spettacolo, e siamo sempre andati in piazza, però, cioè, in posti all'aperto. Hanno chiesto qualche teatro, mi ha chiesto se di portarlo, appunto, nella scatola teatrale, e quindi sono andato completamente in crisi, perché, sai, io, facendolo in piazza, c'è anche la necessità, a un certo punto, di interloquire col pubblico, quindi di rompere la quarta parete e dire, va bene, adesso vi racconto che cosa succede. Non ho ancora scritto quella drammaturgia teatrale che mi permette di avere un inizio e una fine, sono tante parentesi... Di alzare il palco, per poi la strada anche fisicamente, non è lo stesso. Esatto, esatto, in qualche modo sì, è vero. Oppure di abbassarsi se stai in un affiteatro. Però, appunto, sì, cioè, non ho ancora scritto quella drammaturgia che mi permette di dire, ok, mi animi a vedere anche in teatro, ma spero che sarà breve, lo sto facendo, perché adesso sto proprio... Casomai faccelo sapere che noi... Sì, o se no, un giorno facciamo... Adesso andiamo in piazza, ti porto questo, ci mettiamo noi e facciamo... Ma quando ti pare? Facciamo... Oppure facciamo, ho visto che tu hai chiesto un paio di volte, con chi faresti una cena e poi invitare... Certo, certo. Quella è una domanda bellissima. Allora te la faccio, dai, facciamo finta che non gli dite la no. Ok, vai. Senti, allora Marco, facciamo l'ultima domanda qui al nostro Hot Corner, che non so se lo sai, però ogni tanto facciamo questa domanda. Allora, questa sera inviti quattro persone a cena. Prepari tu, tu cuocchi. Io sbucino benissimo. Quattro persone di qualunque epoca, da Napoleone a Sarri. Non me l'aspettavo questa domanda. Allora, invito te perché ti devo far sentire i brani. Capotavoli, no, Capotavoli. Capotavoli, è un quadrato, per cui siamo tutti Capotavoli e tutti una fianco dell'altra. Siamo tutti padroni e tutti ospiti, diciamo. Allora, io forse tu l'avrai conosciuto perché tu hai intervistato tutti. Io proprio, una cosa che ho proprio un po', mi ha pianto un po' il cuore quando è venuto a mancare Battiato. Ah, sì. Perché ho proprio... Ho intervistato in un po'. Eh, immaginavo. Cioè, io proprio una cosa che dici, sai, sì, perché è pieno di mostri sacri nella nostra vita, la storia. Però lui proprio aveva quel qualcosa di pazzo e anche di completamente... Cioè, viaggiava a 360, no, nelle sue canzoni. Per cui, ecco, mi piacerebbe un sacco... Battiato. Te, Andrea. E poi, a questo punto, Daniel Day-Lewis, che ci porta... E che lui all'ingresso gli dice, ok, mettetevi... Levatevi le scarpe e mettetevi le mie ciabattiche. E il quarto? E il quarto ci sto io. No, tu sei fuori. Ah, io sono fuori. Ah. E il quarto... O la quarta. O la quarta. Adesso, detto così... Ciao. Eh, no, allora... E... Ursula Andres. Ursula Andres dei tempi. Dei tempi. Ursula Andres quando usciva da... Sì, sì. Dall'omare della Germania. Esatto. Il Bond. Sì. Beh, Ursula Andres. Beh, bello. Sì, perché... E lui, Ursula Andres, come è già... Volevo dire Nick Cave. Poi tu mi hai detto... Eh, hai capito? Proprio per quello pure. Perché io sono... Eh, perché... Eh, immagino. Immagino. Ma tu hai intervistato tutti. Ma io posso venire a portare questo quando intervisti loro? No, no, ma direi questa cosa in piazza. Scegliamo una piazzetta. Ma quando intervisti loro mi devi portare. Io voglio venire solo lì a sentirli. Nick Cave però a tavola... È tanta roba. È per quello. Tu mi hai detto devi portare una donna. Per carità, eh, sì. È che... Vabbè, io sono... Così, rubo... Sarri no. Sarri deve allenare. Ma perché Sarri... No, 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 perché Sarri a me piaceva come cosa. È molto interessante, è vero. Sarebbe molto interessante. Una bella coppiata. Sì. Grazie Marco per essere con noi. Grazie a te Andrea, grazie a voi. Un piacere. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti